benvenuti a questo nuovo video del giardino della pelagogia io in questo video oggi vi voglio come ultimo video della carellata della nostra del nostro viaggio qui quest'anno voglio leggervi due favole due favole dei fratelli Grimm vi ricordo di iscrivervi a questo canale di attivare la campanella per ricevere notifiche ogni volta che esce un nuovo video di seguirmi anche su instagram e su tutti i social e vi lascio alla alla lettura delle due favole alla favola del il sole chiaro porterà tutta la luce un garzone sarto girava il mondo in cerca di lavoro ma non riusciva a trovarlo e aveva una miseria tale che gli mancava anche di che comprarsi il pane ed ecco che un giorno incontra per la strada un ebreo e persuaso che avesse addosso chissà quanti denari scacciò dio dal suo cuore e prese l'ebreo per il collo fuori denari o sei morto gli disse e l'ebreo fatemi grazie della vita denari non ne ho otto centesimi in tutto ma il sarto replicò si che ce li hai e dovranno anche saltar fuori ricorse alla violenza e tanto lo malmenò che lo ridusse in fin di vita quando ormai stava per morire l'ebreo disse il sole chiaro porterà tutto alla luce furono le sue ultime parole poi morì il garzone sarto li sfrugò in tasca per prendere i denari ma non trovò che gli otto centesimi che aveva detto l'ebreo allora se lo caricò sulle spalle lo portò dietro un cespuglio e riprese la sua strada in cerca di lavoro dopo molte girovagare arrivò in una città si mise a bottega da un padrone che aveva una bella figlia e se ne innamorò la sposò e visse tutto soddisfatto nel suo matrimonio passò del tempo la sposò come dicevamo avevano già due bambini morirono morirono il suocero e la sua suocera i padroni di casa restarono in due sposi e restarono in due sposi ed ecco una mattina che il marito stava seduto sopra la tavola davanti alla finestra la moglie li portò il caffè lui lo versò nel piattino e mentre stava per berlo ci batte sopra il sole e il riflesso occhieggiò qua e là sulla parete formando degli anelli già disse il sarto alzando gli occhi dalla parete gli piacerebbe portarlo alla luce ma non non è capace disse la moglie e il marito mio cosa fa cosa vai dicendo che hai in mente lui rispose non te lo posso dire ma lei arriva a te se mi vuoi bene devi dirmelo lo prese con le buone gli promise che non l'avrebbe saputo nessuno e insomma non gli dette pace allora lui le raccontò che tanti anni prima quando aveva per il mondo tutto l'acero senza soldi aveva ammazzato un ebreo e nell'angoscia mortale l'ebreo aveva detto il sole chiaro porterà tutto alla luce beh gli sarebbe piaciuto il sole di portare tutta la luce mica per nulla occhieggiava sulla parete e ci formava gli anelli ma non è ma non era capace e si raccomandò in tutti i modi che non lo dicesse nessuno ne andava nella sua vita lei glielo promise ma poi andò dalle comare e le confidò tutta la storia che per carità non aprisse bocca con anima viva non passarono neanche tre giorni e lo sapeva tutta la città il sarto fu citato in giudizio e condannato il sole dunque fu pur capace di portare tutto alla luce ecco questa è la prima storia che vi voglio leggere che ho letto per voi e iniziamo con la seconda storia la lampada azzurrina c'era una volta un soldato che per molti anni aveva servito fedelmente il re quando la guerra fu finita a causa delle molte ferite non potai più servirlo allora il lei disse vuoi tornare a casa non ho più bisogno di te denaro non te ne aspetta perché la paga tocca solo a chi mi rende dei servizi il soldato non sapeva come fare a tirare avanti se ne andò con le sue pene e dopo aver camminato tutto il giorno la sire si trovò in un bosco quando calarono le tenebre vide una luce e seguendola arrivò a una casa dove dentro ci abitava una strega dammi un giociglio per stanotte le disse e qualcosa da mangiare da bere se no vado in malora figurarsi rispose la strega chi vuole che dia qualcosa a un soldato randaggio ma avrò pietà di te e ti lascerò entrare se farai ciò che ti chiedo cosa mi chiedi domandò il soldato che domani tu mi zappi il giardino il soldato disse di sì e domani lavorò con impegno ma prima di sera non riuscì a finire vedo che per oggi non puoi fare altro disse la strega ti verò ancora ti darò ancora una notte domani in cambio mi spaccherai una carretta di legna e me la farai a pezzetti al soldato gli ci vuole un'intera giornata di lavoro e quando fu sera la strega gli propose di restare ancora una notte domani devi farmi solo un lavoretto dentro casa mia c'è un vecchio pozzo asciutto dove è caduta la mia lampada è una lampada che fa una luce azzurrina e non si spegne mai devi andarmela a prendere l'indomani la vecchia la condusse al pozzo e dentro un cesto ce lo calò trovata la lampada azzurrina lui face segno che lo tirasse su e la strega lo tirò ma quando fu preso all'orlo sporse la mano per prendergli la lampada e no disse il soldato accorgendosi che meditavo qualche brutto tiro la lampada non ti la do prima di aver posato tutti i due punti i due piedi sulla terra la strega allora si infuriò lo lasciò ricadere nel pozzo e se ne andò il povero soldato cadde sul fondo e sul fondo mole senza farsi male e anche la lampada azzurrina continuò ad ardere ma lui che se ne faceva era chiaro che alla morte non sarebbe sfuggito se ne stesse lì per un po tutto triste poi frugandosi per caso in tasca il capitale mano la sua pipa ancora mezza carica sarà il mio ultimo piacere pensò la tiro fuori l'accese alla lampada azzurrina e cominciò a fumare quando il fumo si fu sparso dal pozzo d'improvviso l'incoparve davanti l'omettino nero che chiese signore cosa comandi cosa posso avere avere da comandarti rispose soldato tutto meravigliato io devo fare tutto quello che mi chiede disse l'omettino benissimo disse il soldato per prima cosa aiutimi a uscire dal pozzo l'omettino lo prese per mano e lo condusse attraverso un passaggio sotterraneo senza dimenticare la lampada azzurrina cammini facendoli mostrò i tesori che la strega aveva ammassato e teneva nascosti lì e intanto il soldato prendeva tutto l'oro che poteva quando fu tornato su disse all'omettino ora va dalla strega legala e portala in giudizio dopo poco si vide passare la strega veloce come il vento in groppa a un guattaccio con strida orrende e dopo un altro po' l'ometto era di ritorno tutto a posto disse la strega pensola già dalla forca padrone e comandi altro per il momento no rispose il soldato puoi andare a casa pur che tu sia subito a disposizione quando ti chiamo basta che tu accendi la pipa la lampada azzurrina disse il piccolino e detto queste parole scomparfe alla vista il soldato se ne tornò nella città di dove era venuto prese alloggio nella locanda migliore si fece fare dei begli abiti e all'oste ordinò di mettere una stanza proprio una stanza proprio di lusso quando fu pronta quando fu pronta e ci fu installato e fu installato chiamò l'omino nero io ho servito fedelmente il re disse ma il re mi ha mandato via lasciandomi alla fame di questo voglio vendicarmi cosa devo fare chiese il piccolino a notte fonda quando la principessa è a letto portala qui addormentata dovrai farmi la serva disse l'omino per me è uno scherzetto ma per te è una faccenda pericolosa se si viene a saperlo lo pagherai cara quando sono a mezzanotte la portò la porta si spalancò e l'omettino portò dentro la principessa a sì a sì che ci sei a ci sei esclamò il soldato su al lavoro va a prendere la granata e spazza quando è spazzato lo ordinò di accostarsi alla sua sedia tese i piedi e le liste toglie i miei stivali gliele buttò in faccia e a lei toccò raccontarli pulire lucidarli lei faceva tutto quello che lui ordinava senza opporre resistenza in silenzio con gli occhi semi chiusi e al primo canto del gallo l'omettino le riportò al castello reale dentro il suo letto l'indomani quando la principessa si fu alzata andò dal padre e gli raccontò lo strano sogno che aveva fatto sono stata trasportata per le strade a gran velocità e condotta nella camera di un soldato a cui dovevo fare la serva obbedire ai suoi comandi compiere i lavori più umili spazzare la stanza e pulire gli stivali è stato solo un sogno eppure sono stanca come se avessi fatto tutti questi servizi per davvero il sogno potrebbe essere stato vero disse il re ti darò un consiglio riempiti le tasche di piselli e faccia un bucolino così se ti vengono a prendere un'altra volta i piselli cadono lasceranno la traccia per le strade ma mentre il re parlava così l'omettino era lì invisibile sentiva tutto così quando trasportò di nuovo per le strade la principessa addormentata le caddero sì quelle quelle alle piselli in tasca ma non lasciarono traccia perché il mattino aveva assolutamente provveduto a spaggere i piselli in tutte le strade e alla principessa toccò farla serva un'altra volta affinché il gallo cantò la mattina dopo il re mandò i suoi uomini a cercare la traccia ma inutilmente in tutte le strade c'erano uomini poveri che raccoglievano i piselli e dicevano stanotte sono piovuti i piselli dobbiamo studiare qualcos'altro disse il re quando vai a letto non togliti le scarpe e quando stai per venire via da quel luogo nascondere una a ritrovarla ci penserò io l'omini o meno sentì il tiro che si preparava e quando la sera il suo dato voglia che le portassi la principessa glielo sconsigliò disse che a quella astuzia non sapeva come mettere il paro e che se la sciarpa fosse stata trovata nella sua camera gliela breve fatta pagare cara fa come ti dico ribattè il soldato e alla principessa toccò farla serva anche la terza notte ma prima di essere portata via nascose una scarpa sotto il letto l'indomani il re fece cercare la scarpa della figlia in tutta la città la scarpa fu trovata nella stanza del soldato e il soldato stesso che per insistenza le piccole era già uscito dalla città fu ben presto raggiunto e gettato in carcere e durante la fuga aveva dimenticato il miglio la luce azzurina e l'oro in tasca non gli era rimasto che che un ducato se ne stava in catena alla finestra del carcere quando vide passare uno dei suoi compagni d'arme picchiò al vetro il compagno servicione lui gli disse si buono vammi a prendere il fagottino che ho lasciato alla locanda eccoti un ducato come compenso il compagno scendò e li portava quanto richiesto e appena fu solo il soldato si accorse si accese la pipa e chiamò l'omino nero non aver paura disse l'omino al suo padrone vai dove ti porto ne lascia fare pensa solo a non dimenticare la lampadina azzurra l'indomani il soldato fu sottoposto a giudizio e mentre non avesse fatto niente di male il giudice lo condannò a morte quando dunque fu un condotto fuori chiese al re un'ultima grazia quale grazia chiese il re che durante il tragitto posso farmi ancora una pipata anche tre disse il re ma non credere che ti faccia grazia della vita il soldato tirò fuori la sua pipa l'accesa l'accesa la lampada azzurra e appena levato i due anelli di fumo ecco ti lo mettino aveva un randelletto in mano disse cosa comanda il mio padrone buttami a terra quei giudici bugiardi quei loro sgherri e non risparmiare il re che mi ha trattato così male come un fulmine l'ometto si sguagliò di qua e di là e che toccava col suo randello di già subito cadeva a terra e non osava più muoversi il re si impaurì ricorse le suppliche e pur di aver salva la vita detta al soldato il regno e la figliola questa è la fine di questa di questa storia dei fratelli grim e ecco spero che l'aver letto questa questa storia con voi possa essere stato così piacevole all'ascolto vi ricordo di iscrivervi a questo canale di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video di di seguirmi su tutti i social e anche di seguirmi sul mio canale podcast il podcast del giardino sempre qui su su youtube vi ringrazio alla prossima e buona estate